Il progetto nasce nel momento in cui abbiamo voluto aderire ad una campagna del Ministero per i beni e le attività culturali che si chiama Il Maggio dei Libri, una campagna quindi a sostegno del libro e della lettura che culmina il 23 di maggio nella festa del libro. Abbiamo notato la coincidenza con l'anniversario della scomparsa di Giovanni Falcone e abbiamo pensato che fosse il modo giusto per celebrare il ricordo di questa persona. Abbiamo pensato che il libro e la lettura potessero farsi strumento di condivisione di un messaggio di legalità e abbiamo pensato di coinvolgere i ragazzi della nostra scuola media nella convinzione che soprattutto con le giovani generazioni che dobbiamo lavorare su questi temi. Il tema della legalità, della lotta alla mafia, nonostante siano ragazzi di età molto giovane, raccoglie molto il loro interesse. Nonostante appunto siano ragazzi di 11, 12, 13 anni, hanno mostrato di riuscire comunque a lavorare e lavorare una loro riflessione su questi temi che a noi magari sembrano difficili da proporre a dei ragazzi così giovani.